Te l'ho detto che ci potevamo trasformare Oh che carini Perché abbiamo la faccia storpia? Siamo un po' baggati in faccia Ti stavo per dire quella cosa Ma siamo dei Pikachu fantastici Si sta muovendo timidamente in giro per la mappa Sono gelosissima Ciao Ciao Adesso ci fa fuori tutti Sei bellissimo Oh che carino Spongebob Davvero davvero troppo Vedi è timido è timido Arrivo Guardaci Guardaci E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E qui si chiama Roblox E siamo in un Tycoon fantastico Ovvero il cartoon Tycoon E infatti adesso come vi faremo vedere Ogni Tycoon è a tema cartoni animati Esattamente Abbiamo Spongebob Abbiamo The Amazing World of Gumball Di cui abbiamo già fatto una mappa di parkour Poi abbiamo Allora fammi ricordare un pochettino Teen Titans Che è qua finito Ve lo faccio vedere che è bellissimo Quelli finiti sono davvero fantastici Non vedo l'ora di iniziare Sono davvero belli una volta finiti Tutti colorati Allegrissimi Troppo troppo belli Esattamente Poi c'è Scooby Scooby Doo Lì in fondo Addirittura proprio se stavi per cantare la canzone Scooby Scooby Doo Where are you? Eccetera eccetera Può anche smetterla grazie Il tuo è Tom and Jerry Molto bellino E infine io ho preso Pokémon Ovviamente L'ultima cosa è rimasta Però i Pokémon ci piacciono sempre Quindi sono felice di farlo E tanto possiamo vedere quello degli altri Così Quindi alla fine Diciamo che non cambia Molto Grazie a Tiki Mi ha acciso Gli altri sono molto cattivi in questa mappa Io lo dico Sono davvero molto molto cattivi C'è un tizio sopra un albero che spara Aiuto Mi stanno arrivando addosso Eh te l'ho detto Sì sono davvero cattivi Vogliono sempre litigare Quindi non vedo l'ora di armarmi E farli No Io voglio le mura Cioè sinceramente Se possiamo mettiamo subito le mura Ci provo Costa 15 Sì dai Non so come saranno Io mi ci gioco che un gradino Guarda Vediamo Perché 15 Ecco C'è una presa in giro Grazie E una presa in giro Allora finestre Aia Ho finito i soldi Praticamente Non credo che ci possano difendere questi muri così bassi Però è un inizio Allora compiamo un pochettino di dropper Perché l'unico modo qua è fare soldi e poi scappare Scappare Ecco qua E morti di nuovo Morti di nuovo Eh vabbè Ti giuro che li ucciderò tutti Non devono uscire Perché quando facciamo le mura e ci armiamo Loro non vivranno più Assolutamente Quindi non devono permettersi a uscire dalla mappa Perché questa è guerra Capito Scopriranno il potere di Pokémon E di Tom and Jerry ovviamente Ovviamente Guarda sto scarso Mi sta sfidando A 2000 armi Sono qua che flutto E cerco di ucciderlo Mori Fallo fuori Fallo fuori E' bassissimo Ok L'ho ucciso Ce l'hai fatta Bravissimo Abbiamo almeno un minuto di pace Mentre va a riprendersi le armi Questo valoroso consolino ci sta difendendo E ci sta pure armando Oh mio dio Ci sta portando un sacco di armi Voglio questa Voglio questa Siamo pronti alla guerra Grandissimo Ci sta aiutando nella guerra contro gli inglesi Che ci vogliono far fuori in ogni modo Perfetto Chi vincerà? I consolini o gli inglesi? Ovviamente i consolini Ovviamente Ricordati che i consolini fanno sempre uscire gli inglesi dai server Oh 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 Sta arrivando del diverso dal solito Che cos'è quella roba? Ah si è diventato quello di Teen Titans Vieni qua Oh mamma mia che bello Ok ucciso Ucciso Aiuto Si è auto incastrato sulle piante E l'ho bruciato vivo Mi sono incastrato Ok ci sono Tranquilla Ho la vita bassissima Aiuto 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 Vi facciamo passare la voglia di venire ad ammazzarci Allora Comunque hai notato che era trasformato in Teen Titans Quindi vuol dire che avremo la possibilità di trasformarci in Pokémon noi? Si e tu in Tom & Jerry credo Esatto Non lo so Io Tom & Jerry quando ero bambina lo guardavo tantissimo Mi piaceva troppo Quindi non vedo l'ora di vedere cosa ci sarà anche nel mio take Però non abbiamo minimamente guardatele immaginate qua Esatto Abbiamo Pikachu Ash e Pikachu Bulbasaur Guarda che belli Te li fanno vedere anche qua Zubat non ci provare Togli il Zubat Preferisco fare meno soglie e non averlo E perché PJ e Mute Cioè sempre qua E sempre qua c'è Il Team Rocket e Squirtle Ok Per ora molto bellino Carinissime queste immagini Davvero carinissime Sì 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 Guarda 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 Allora Ok Speravo di aver finalmente trovato i muri che ci difendono ma no Purtroppo no Penso che per quelli dovremmo aspettare davvero tanto Ce li abbiamo 7300 Sì abbiamo quasi Uh Charmander Finito la produzione Upgrader 12000 ce li ho È velocissimo comunque Se non ci fossero i disgraziati ad ammazzarci tutto il tempo Sì È davvero velocissimo Sarebbe davvero veloce Ok È bellina Bellina la produzione L'upgrader finale io credo Ah Aia Aspetta Aspetta questa volta sono pronto Uso il rampino Per andargli addosso Io che faccio con questa arma secondo te Oh no mi si è flipato il rampino Oh no Guardami Questo è il mio rampino James Bond E mi hanno ucciso Bene Ok Ok Perché questo è agente 007 Adesso praticamente Ti vedo incastrata nel cartellone Ti vedo da posto Ok ce l'hai fatta Sì 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 Allora adesso devo trovare un modo per entrare Per entrare e distruggerla La vendetta è mia Sta per uscire E tu Allora mettiti davanti alla sua porta e saldella Lui esce per ucciderti Io li casco da sotto e lo ammazzo Ok Ok Facciamo questo piano Mi sembra perfetto Guarda è qua Ok Ok sta uscendo È davanti alla porta Sono morto Scappa 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 Sono morto Ma che piano terribile Che come hai fatto a morire Ho toccato i muri Non la sua porta e sono schiatato E fai morire pure me Corri Non ascolterò mai più in tuo piano Cioè tu mi eri assicurato Dicendo che era agente 007 Io mi fidavo E tu mi hai fatto morire Scusami Spero che un giorno mi perdonerai Anche perché sto facendo shopping Mentre non ci sei No sei una persona terribile Io sto andando dal consolino Ah ok vai ad armarti Sì vado ad armarmi Tanto non ho la possibilità di finirmi Allora mi prendo questa Benissimo Mi prendo tutte le armi Sto arrivando disgraziato Mi doveva nascondere Faccio finta di essere un manichino Ok Non mi ha visto vero Sì che mi ha visto aiuto Secondo me non ci casca Non ci casca Finalmente ho l'arma anche io Adesso vediamo chi vince Aia stanno volando un sacco di cose Disgraziato di un Manuel Cerco di spararla Di spararla Ok è praticamente morto No Ciao bello Ci rivediamo Fino a quando avrò questa arma Non ci ucciderà più Perché è nabbo E noi l'ammazziamo No però c'è l'altra disgraziata Aspetta Ci penso io Cosa ha fatto? Non lo so Non capisco Guarda Quel disgraziato se ne è andato Io non ci posso credere Io non ci posso credere Ti rendi conto che appena ha avuto la sua stessa arma Non è durato 20 secondi? Cioè finché uccidono quelli che sono appena entrati va bene si divertono Però poi se fanno le sfide a pari livello scappano sempre così Consolini 1 inglesi 0 Ecco infatti la cosa perfetta è quella ci siamo messi tutti e tre assieme Aprimi la porta scusa scusa Hai ragione E siamo riusciti a sconfiggerlo Ora possiamo dedicarci al nostro Tecun Allora ti compro questo Uh bello Ti compro le faccine Dato che ho visto che ti piacciono sempre Questa con gli occhieri da sole è la mia preferita ormai Guardami guardami Cioè ti metti così a litigare con le persone Sei fantastico Allora guarda abbiamo finito la posizione Perché ne ho messo anche qua un'altra a sinistra Che è simile ma sono più giganteschi Poi ho messo tutte queste luci Tutta l'astrarina Tutto molto bellino Sì finalmente possiamo dedicarci Oh cavolo Che è successo? Mi hai incastrato dentro Oh sei diventata un'arma L'arma per i Niki Sono in una teca Vedi sì io sarei Sono davvero un'arma letale Con signor Maialino Siamo davvero un'arma Un'arma letale E finalmente qualcuno se ne ha accorto E ci ha messo qui pronti Comunque non posso uscire Voglio un'arma per i Niki Grazie Compriamo il Pat Ok Ok poi voglio il conveyor Perché voglio subito vedere come è la nuova produzione Compriamo 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 E facciamo un sacco di soldi anche qua Poi ci prendiamo un po' di mura Belle Finestre E siamo già più al sicuro Secondo me Anche se poi certe armi Passano anche attraverso i vetri Però Però dai Diciamo che stiamo Ingrandendo il nostro tecoon E non è per niente male Fammi Te l'ho detto che ci potevamo trasformare Oh che carini Perché abbiamo la faccia storpia Siamo un po' baggati in faccia Ti stavo per dire quella cosa Ma siamo dei pikachu fantastici Siamo dei pikachu fantastici Appena l'ho letto Sotto zitto e l'ho comprato Allora Poi vogliamo 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 Io ti direi questo Ok Questa vabbè Non ci serve ma se non le compriamo tutte Non ci da quelle dopo Questa che bellissima Aspetta un attimo Clicca un'arma Spuntano fuori le braccia Oh mamma mia Che cosa inquietante Abbiamo il coso più inquietante di sempre Sì assolutamente Allora aspetta che ci hanno chiesto i consolini di aprirli Venite Forza forza Vieni vieni Venite tutti dentro Hanno entrato un altro Arrivo Guardaci Guardaci No è fantastica sta cosa È davvero fantastica Oltretutto Questo è fatto davvero bene Guarda Non si bagga come pikachu Guarda È fatto davvero bene scubiglio È perfetto È perfetto È bellissimo Metti la spada però Aspetta Ecco E spuntano fuori sempre Aspetta Prendi un capello Aspetta Guarda dove lo mette Aspetta Nella schiena Vabbè Vabbè Che poi Spongebob Lo vorrei troppo provare Vediamo se ci lascia aperto Scusi Anche se non è un consolino Possiamo vestirci da Spongebob La prego Ci apro la porta Guarda Stiamo arrivando in massa Possiamo Ricordati che dobbiamo resettare il personaggio Però Se no non puoi Si è chiuso Oh cavo Niente Spongebob per noi Siamo tutti qua davanti È inglese E infatti è antipatico Guarda È sempre una conferma Andiamocene Andiamocene Torniamo al nostro tycoon Con la coda tra le gambe Sto facendo una festa Con i consolini Dove sei finita? Guardami Guarda cosa sono Guardami Non ti spoilerò nulla Guardami Sono Tom Ti chiudo la porta Nel collo Nel collo L'ho preso per sbaglio Anche tante Sono samurai Oh che belle Ciao Sei mezzo pirata E mezzo samurai Perfetto Guarda quanti vestiti Aspetta No Torno subito Torno subito A prendermi un bellissimo Oh mamma mia Che bello quello Fantastico Cioè guardami Per me luccica un po' troppo Sinceramente A me piacciono le cose Che luccicano Che bello Che bello Che bello Allora Ho un dubbio Che succede? Vieni un attimo fuori Arrivo Perché abbiamo finito Con il tetto Ok Ok si c'è già Guarda Oh che carino Che carino Ma abbiamo finito? Quasi Ok ho visto che abbiamo Qualche arma da prendere Giusto? Sì Qualche arma E penso che abbiamo Praticamente finite Bellissimo Ho 170.000 Quindi sto iniziando Ad andare un po' lento Soprattutto perché i capelli Ci costano tipo 150.000 Sono pure brutti Giustamente Però sì ci manca qualche arma Compro prima quelle Guarda qua Ok le armi Ah no Questa è l'arma perfetta Per il mio travestimento Guardami Sono bellissima Finita tutte le armi Finita tutta la produzione Finita tutte le costruzioni Mancano soltanto questi capelli Che sono davvero bruttissimi Questo è l'ultimo che compriamo Perché guardate Stanno aumentando sempre di più E sono sempre più brutti Sono lo stesso capello Cambiano solo di colare Cioè aumenta Di soldi E aumenta di bruttezza Capito? Secondo me è fatta posta Sì anche a me questi non piacciono Non piacciono per niente Allora Facciamo un party però Tutti in aria Festa No di nuovo Lo stanno spammando Guardalo Guardalo Si sta muovendo timidamente In giro per la mappa Sono gelosissima Sono gelosissima Ciao 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 Adesso ci fa fuori tutti Sei bellissimo Oh che carino Spongebob Davvero davvero È timido È timido Troppo carino Troppo carino Comunque dobbiamo ringraziare Il nostro consolino Rylands97 Perché senza di lui Non saremmo riusciti a contrastare Tutti quelli inglesi No no assolutamente Erano davvero alla riscossa In una maniera incredibile Oggi erano proprio in forma Che non ti volevano far giocare In nessun modo Però lui ci ha aiutato tantissimo Ci ha dato subito le armi E quindi siamo riusciti A farli fuori E a farli uscire dal server Che è la cosa più importante Comunque guarda che bello Anche quello di Scooby Doo È ancora meglio del nostro Sì è ancora più bello Sono fantastici Bellissimo Sono fantastici tutti Bene ragazzi il video Ficino così Se in città Settici un bel like E sulla prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao